Una tubatura dell'acqua rotta alla litoranea nel tratto iniziale, quello di Ponte Cagnano, si è trasformata in un fiume. In un primo momento nella notte sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre alcuni tecnici dell'ASIS chiudevano la condotta idrica per consentire i lavori di scavo e la riparazione del tubo. Operazioni non semplici per la friabilità del terreno. Lavori durati per l'intera mattinata con i conseguenti disagi per gli utenti ASIS della zona, pochi per fortuna. Le immagini vi mostrano le operazioni iniziate intorno alle 10. Contestualmente operai del comune di Salerno chiudevano al transito la strada di accesso alla nuova viabilità che conduce alla litoranea, non senza dover discutere con gli automobilisti che chiedevano numi su come poter raggiungere le proprie destinazioni. I lavori sono durati per l'intera mattinata.